Vi sono mondi di fantasia, dove vivono creature magiche, imperversano le leggende, ed esiste la magia. Ma vi sono anche dei luoghi dove non troviamo cose che qui da noi diamo per scontate. Per esempio, nel mondo dove è ambientata la storia di Cenerentola, non esistono gli avvocati? No, perché quando resti orfana di tuo padre e la tua matrigna si becca tutto il malloppo, rendendoti praticamente una schiava a casa tua, se non chiami l'avvocato o sei fessa, o non esistono? Ebbene sì, tornano i riassuntoni dei grandi classici Disney. Come al solito, vi ricordo che al link qui sotto nell'info box potete ascoltare le canzoni principali del film cantate dalla bravissima Giada. La nostra giovane protagonista è Cenerentola, figlia di un aristocratico che, rimasto vedovo, si risposò con Lady Tremaine. Vedova a sua volta, che possiamo dedurre fosse l'unica donna libera del reame, in quanto è la perfidia fatta essere umano, non brilla particolarmente di bellezza e ha persino due figlie sgorbutiche e fastidiose come zanzare che ti svegliano alle 4 di mattina. Ovvero Anastasia e Genoveffa. Tra l'altro, io un'indagine per omicidio l'avrei aperta. Dico, l'avete vista la faccia di chi ha ereditato tutto 3 secondi dopo la morte del consorte? Una che è rimasta vedova ben due volte di fila? Non ci vuole Sherlock Holmes per non tirare dei dubbi, eh? Quindi nel regno di Cenerentola non esistono gli avvocati e i poliziotti. Passano gli anni e ormai Cenerentola si è rassegnata a vivere quella che possiamo tranquillamente definire una vita di schiavitù, relegata in soffitta senza manco l'acqua calda. Per fortuna la giovane non ha perso la gioia e la vitalità facendosi aiutare dai vari animaletti che vivono nella casa, che le fungono da sveglia, doccia e accompagnamenti musicali improvvisati. Passando così tanto tempo da sola, la ragazza ha iniziato a parlare con i topini, ai quali fai vestiti e porta da mangiare, perché l'epidemia di leptospirosi ormai è un ricordo del passato. Malgrado sia costretta a vivere una vita del genere, la ragazza non prova alcun rancore verso la sua famiglia acquisita, che la tratta a pezze in faccia, nonostante ella sia più efficiente di una squadra di colfa addestrate. Io al suo posto nel tema tutino della matrigna ci avrei messo il gutalax a cadenza giornaliera. Essendo Lady Tremaine una donna malvagia, ha con sé un animale altrettanto malvagio, ovvero Lucifero, uno dei pochi gatti bastard inside dei lungometraggi disneyani. Dopo i sei mesi di Lilia e il vagabondo, ovviamente quelli sono i re della perfidia. Nel frattempo a palazzo il re sta disperatamente cercando di far maritare suo figlio, che di accasarsi non ne ha proprio la minima intenzione, perché se nel regno la più sposabile era Lady Tremaine, beh, immaginiamo il resto. Allora il sovrano decide di organizzare un ballo, al quale saranno invitate tutte le fanciulle del reame, sperando che una di queste possa far brecciare il cuore del figlio. L'invito arriva ovviamente anche a casa di Cenerentola, e Lady Tremaine si illumina come un albero di Natale, al pensiero che una delle sue due beffane, ahem, figliole, possa maritarsi col principe. Che per tutto il film un nome non ce l'avrà, un po' come quello di Biancaneve, perché nei classici Disney i principi erano principi, punto. O magari era quello il nome. Anche Cenerentola vorrebbe andare al ballo, ma Lady Tremaine non è molto per la quale, perché teme che la bellezza della fanciulla possa in qualche modo sfigurare quella delle sue due figliole. Veramente basterebbe anche una libreria Ikea per farle sfigurare. Non è che se non viene Cenerentola, uno di sti due sgorbi diventa principessa di Stocca... E emozionatissima per l'imminente serata, Cenerentola tocca sistemare un vecchio abito, ma non avendo il tempo perché troppo impegnata con le faccende domestiche, ci pensano i suoi amici topini, diventati per l'occasione abilissimi sarti, che realizzano per la ragazza un magnifico vestito. Accantando, ovviamente, eh. Ma ecco che è giunta l'ora di andare alla festa, le due sorellastre distruggono il vestito di Cenerentola in una delle scene più bastarde inside della pellicola. La poverina resta così con uno straccio addosso e un mare di lacrime negli occhi. Per fortuna in quel momento arriva la sua fata madrina, che ha sempre vegliato su di lei, che non è intervenuta per impedire al padre di sposare praticamente una strega, che non ha mosso un dito quando la sua protetta viveva nella miseria, che non ha fatto cadere nemmeno un fulmine mentre le tre perfide andavano al ballo. Ma per far partecipare la giovane a una festa, eccola lì, bella pronta. Ma ti pare fosse quello il problema maggiore? Ok, alla festa c'è il principe, va bene, ma a sta poverina serviva essere libera da sta vita d'inferno, non andare a ballare. Così la fata madrina donna a cenerentola un magnifico abito, scarpette di cristallo, che assicurano vesciche al quarto passo, carrozza e cavalli per recarsi alla festa palazzo. Dandole tempo però solo fino a mezzanotte. Dopo quell'ora l'incantesimo sarebbe svanito. E miseriazza che magia della mutua, non riesce a lasciarle un vestitino e una carrozza? Permanenti, no? Che poi mezzanotte, saranno già le nove di sera, ci sta venti minuti alla festa sta povera ragazza. Ma per fortuna il principe nota subito la fanciulla e dopo aver ballato una sola volta con lei per, appunto, 20 minuti, si innamora perdutamente di lei. Ma ecco che giunge mezzanotte e la ragazza scappa via perdendo una scarpetta di cristallo che viene raccolta dal valletto del principe. Tornata a casa, le resta solo l'altra scarpetta, come ricordo. Quella evidentemente era in offerta e non è sparita, insieme al resto del corredo per ovvie esigenze di trama. Il giorno dopo il principe inizia a cercare come un pazzo la fanciulla della festa e non sapendo nulla di lei, dopo aver ballato 20 minuti senza parlare, è ovvio, ordina i suoi uomini di andare per tutto il regno a far provare ad ogni fanciulla la scarpetta. Con lei che la calzerà, diverrà la sua sposa. Ma che metodo contorto! Non poteva alzare lui le ciapette e andare a fare il giro casa per casa, almeno la fanciulla l'avrebbe riconosciuta subito guardandola in faccia. Poiché il numero porta cenerentola? 37-38? Capirai! Ce l'ha il 70% delle donne! Comunque Lady Tremaine ha capito che cenerentola è la fanciulla che il principe sta cercando, così la chiude in soffitta per non farle provare la scarpetta. Ma grazie ai suoi amici animaletti la giovane si libera. Ma la perfidia della matrigna non conosce limiti e pertanto fa inciampare il valletto, frantumando così la scarpetta di cristallo in mille pezzi. Fortunatamente però, cenerentola possiede ancora l'altra scarpetta e così può sposarsi felicemente con l'uomo con cui ha ballato per 20 minuti e vivere per sempre felice e contenta. Il primo atto da regina è quello di far arrestare tutta la tua ex famiglia, vero ce n'è re? A meno che Lady Tremaine non abbia già infartato, a giudicare dalla sua ultima inquadratura. In tema di pulizia in casa, io a volte ci provo a fare i mestieri in bagno, ma a certi luoghi non li puoi proprio pulire perché ci si piazza il gatto. Vedi il bidet, uno prova a fargli notare che magari è il caso che si bevi, ma lo sapete, i felini sono i padroni della casa e dove si mettono devono restare. Non c'è niente da fare. E ormai Cenerentola si è riassegnata, non riassegnata, riassegnata, allora, allora il sovrano, puntuoso ballo, al quale saranno invitati, al quale la tua madrigna si becca tutto il palloppo, palloppo, malloppo, la sua volta che possiamo tuporre, 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 sì, hai si riassegnata a rivere un'esistenza, vivere, non rivere, sta disperatamente cercando di far accapare suo fi, casare, 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 accapare, non è che se non viene Cenerentola uno dei tuoi sgorbi per... Sua fata madrina che svegliava su di lei, svegliava su di lei, ahà, appunto 20 minuti, si innamora per... mi sono rimpastata, vero no, 37, 38, e capirai che al pop... calza al 70 per 100, ma per fortuna Cenerentola possiede ancora... possiede? è partita la S, Cenerentola possiede... Grazie a tutti